Avrebbe potuto chiedere anche il trasferimento, dopo i primi tre anni non l'ha chiesto perché lei si è innamorata fortemente di Gela e a Gela lascia un ricordo indelebile. Io spero di lasciare un buon lavoro, il segno di un impegno, certamente si pensa sempre che si sarebbe potuto fare di più, che avrei potuto fare di più, però abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Qual è stata l'emergenza più importante che lei in questi otto anni ha affrontato a Gela? Non si può dire un'emergenza, purtroppo Gela come mi capita di dire subisce il fatto che la storia sembra essere passata come un rullo compressore sulla città, ha vissuto tante traversie, ha affrontato tanti problemi e chiaramente anche in questi anni abbiamo visto che questi problemi erano ancora presenti, reali, il problema della criminalità diffusa, il problema delle violenze che comunque riguardano le persone, le problematiche ambientali, la pubblica amministrazione, i reati economici. È chiaro che ci dobbiamo occupare di tante emergenze purtroppo. Otto anni fa, quando le comunicarono che sarebbe venuto a Gela, il suo primo pensiero quale fu? Di grande curiosità, io non ho vissuto nessuna frattura tra la mia esperienza lavorativa precedente e la mia esperienza a Gela. Mi sono sintonizzata in modo, direi, molto rapido con questa realtà, anche perché è una realtà vivace, è una realtà che reattiva. E' un contesto complesso ma di grande interesse e dove ho trovato delle grandi professionalità. E cosa porterà a Roma? Gela nel cuore? Ma questo assolutamente, credo che sia un'esperienza assolutamente irripetibile, vissuta intensamente, con i limiti umani, però, ripeto, vissuta con grande impegno e con grande partecipazione. Gela è una realtà che purtroppo ancora oggi subisce oltremisura i danni di un cliché che è attestato su periodi storici diversi. Deve continuare nell'impegno. In questo momento non è certamente un momento brillante per la città. Ci sono tanti problemi, ci sono tante preoccupazioni e ci sono anche tanti rischi, però bisogna impegnarsi. Ecco, io mi auguro che questo impegno collettivo da parte del contesto gelese ci sia e che riesca a trovare delle vie che la proiettino verso lo sviluppo, verso un futuro che mantenga saldo questa realtà che, secondo me, è molto intensa e molto propulsiva. Certamente il compito dell'istituzione giudiziaria è quello di rimanere saldo sul territorio. Quindi il fatto che io mi trasferisca, perché è fisiologico, noi più di otto anni nel ruolo direttivo non possiamo rimanere, non deve significare nulla in termini proprio di forza della presenza dell'istituzione. Un oggettivo e una conclusione per identificare i gelesi? Complessi, però reattivi, però intelligenti. Grazie.